Perché non sanno stare in campo, non sanno stare in campo, sono messi in campo alla viva il parroco, non c'è un criterio, questa squadra va allo sbando in una partita come è successo al secondo tempo, fa i 12 minuti, 15-18 come ha fatto contro noi, ma non sanno, tatticamente sono allo sbando e mi dispiace dirlo, non sanno cosa devono fare, se devono correre camminano, se devono camminare corrono, se devono andare in posizione e sovrapposizione non ci sono, se gli altri prendono il paneo non glielo tolgono mai, a livello fisico sono a terra, hanno tutto a terra, ma a livello tattico è una squadra che non ha mezza idea da sempre e purtroppo da un anno e mezzo a lei che ci ripete sempre le stesse cose, per cui io mi vorrei limitare soltanto al campo, questa è una squadra che in campo purtroppo non ci sa stare, per colpa di chi dovrebbe metterla, come quando giochi a scacchi, se non sai muovere le pedine non puoi giocare a scacchi, e quindi a me del contratto di tre anni ancora interessa poco perché glielo hai fatto tu, se vuoi andare in rovina per tutto l'anno vai in rovina per tutto l'anno.